Ciao a tutti, siamo arrivati a venerdì 28 settembre 2018, chiaramente la puntata l'abbiamo registrata ieri perché ho la stessa maglietta e la stessa cartelletta. Il riscaldamento di oggi 3 run 4 time, 10 air squat, 10 barpees e 400 metri run. Poi rientrati faremo 10 posing front squat, cercando di costruire un heavy single, quindi un singolo pesante, e 10 front squat, anche in questo caso cercando di costruire un heavy single. Velocemente il WOD di oggi, per chiudere la settimana, si tratta di un WOD 4 time dove faremo 400 metri di corsa, 21 barpees facing the bar, 21 thrusters, per quanto riguarda gli advanced parliamo di 50 e 35 kg, per quanto riguarda gli intermediate e i beginners invece parliamo di 40 e 30 kg e a chiudere 300 metri di corsa, 21 barpees e 18 thrusters. Questo è tutto, la settimana si chiude qua, ci rivediamo lunedì, buon weekend!